Ciao a tutti, sono Gabriel Halmaghi, lo Spa Manager del Ron Cavalieri e World of Pastoria Hotel. Sono qui a WeWorkWell in Sardegna. Ho passato tre giornate fantastiche, ho conosciuto nuovi fornitori, ho avuto delle idee bellissime per portare a casa, per implementare, creare nuovi progetti. Ho fatto un bel networking con i colleghi delle spa, con tutte le altre persone che sono invitati in questo bellissimo evento. Non si dice qui, stasera c'è una bellissima serata per chiudere l'evento. Sono molto contento di stare qui insieme a loro.